Lutto e dolore a Battipaglia, il cuore di mamma Mimma Dente si è fermato per sempre. La giovane donna era finita in coma dopo aver dato alla luce due gemellini, si è arresa dopo 36 giorni nella sala di terapia intensiva del Santa Maria della Speranza. L'amministratore del gruppo sedi Battipaglia, il vero Vincenzo Cesaro, aveva anche organizzato un momento di preghiera per Mimma. Tutto è iniziato il 6 maggio, data della nascita dei bambini, attesi dopo 11 anni di matrimonio. Una gioia immensa per la terapista della riabilitazione che a 38 anni aveva accolto a braccia aperte la gravidanza. Purtroppo adesso questa mamma coraggiosa e vogliosa di vivere è volata in cielo. Tutta la città di Battipaglia si stringe al dolore del marito e dei familiari.